via prima volta sulla tafano tra il area no oggi è veramente insupportabile chiaramente non è colpa di nessuno però sti tafani questo dovrebbe essere sentiero 8b però è un sentiero è una forestale potrebbe essere una forestale sento dietro il ragione che conta suo comunque la zona è bellina e merita magari autunno inverno primavera quando non ci sono tafani e bisogna divertirsi un quel lissi atto il lower il lower è super flow vai vai no no era la sperandio a prunere braccio marimma maiala chi ha la testa a 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 Maledetti pruni Maledetti pruni